Buonasera e bentrovati all'appuntamento di quest'oggi. I mercati sono anche oggi sostenuti dopo il dato trasmesso ieri sui prezzi al consumo statunitense in crescita del più 4%. Attesa per oggi la conferma dei tassi da parte della Fed, mentre domani è previsto un incremento dello 0,25% da parte della BCE. Borsa italiana mantiene il trend rialzista iniziato lunedì, toccando i massimi di aprile a quota 27.600. La variazione finale è del più 0,88%. Il DAX oggi tocca un nuovo massimo sopra ai 16.300. In questo caso però i guadagni sfiorano il mezzo punto percentuale. Avvio discordante a Wall Street è da una parte il Nasdaq, che anch'esso non sta raggiungendo il mezzo punto, dall'altra parte il Dow Jones è addirittura negativo di qualche decimo di punto. A svettare sul paniere principale milanese oggi è Telecom Italia, dopo le indiscrezioni sulla possibile entrata in scena di un fondo nell'affare della compravendita della rete. A seguire troviamo una serie di bancari. Unicredit super abbondantemente il più 3, Monte dei Paschi e Biper si avvicinano ai due punti e mezzo, mentre Banco BPM chiude a più 1,76. Leonardo, meno 1,76, è invece la maglia nera tallonata a brevissima distanza da Saipem. Oltre a questi due titoli, solo i recordati supera l'1% di passivo. In rosso anche Tenaris e Amplifon. Per quanto riguarda la moneta unica euro-dollaro è in eccezione positiva, visto il buon rialzo che lo riporta in area 1,08 e 50. Lievissimi ribassi per i cross euro-sterlina ed euro-yen. E ora chiudiamo con l'intervista al trader Giacomo Moglie. Salve a tutti, ospite delle interviste di Traderlink di oggi Giacomo Moglie, analista tecnico. Daremo con lui uno sguardo ai mercati in vista dei prossimi importantissimi appuntamenti. Lasciate la parola. Bentrovata Rossana. I dati sui prezzi al consumo americani a 4% nel mese di maggio hanno fornito un buon supporto ai mercati azionari. Attesa per stasera dalla Fed una conferma dei tassi, quindi il primo stop del 2023, mentre per domani atteso dalla BCE un rialzo di 0,25% dei tassi ufficiali. Dunque un po' di benzina per i listini azionari con quelli europei che capitalizzano una produzione industriale in risalita in aprile. Piazza Affari partecipa con rialzi diffusi nella prima parte di giornata con Telecom sugli scudi, poi facciamo anche un commento. Da un punto di vista tecnico, iniziando dal Fuzzi Mib, stamane è violato rialzo i 27.675, qui in osservazione il grafico settimanale, già massimo di venerdì il 19 maggio, ricalibrando la visione giornaliera rialzista nei nostri modelli con un presidio protettivo attestabile sui 27.230 punti indice. Tenuto conto che c'è stato lo stacco dividendi in aprile e maggio di oltre 2,5%, quindi saremmo già al di sopra del massimo del gennaio 2022. Se vuoi Rossana prendiamo in esame da un punto di vista tecnico Telecom Italia, interessante perché da un punto di vista tattico settimanale, qui in osservazione il grafico settimanale, un doppio minimo a questo punto con protezione in area 0,2430 potrebbe ristabilire le sorti e riaprire le sorti rialziste sul titolo di telecomunicazioni alla luce dell'interesse e delle manifestazioni di interesse tra diversi scenari possibili che quest'oggi dunque crea dei rumors e interesse da parte del mercato. Passando agli indici internazionali sul DAX, è proprio oggi che l'indice tedesco ha ritoccato a livello intraday il massimo assoluto che aveva visto in maggio, al termine di cui i nostri modelli in realtà erano divenuti cauti sulle sorti strategiche dell'indice teutonico, ma la rinnovata capacità di far segnare nuovi massimi mantiene illuminata nei nostri modelli la via rialzista, salvo registrare un epilogo di fine giugno sotto i 15,9 e già più in prima battuta, in finale di questa ottava sotto i 16.275, quello sarebbe un campanello di allarme per una falsa rialzo. Ma è senz'altro Wall Street che nel periodo ha ispirato la positività degli altri indici, andiamo a vedere l'S&P 500 in chiusura capace questa settimana di sopravvanzare a rialzo il massimo di agosto 2022, per cui una capacità di mantenersi in chiusura di questa ottava sopra i 4.310 sarebbe di conferma rialzista tattica sul maggior indice americano con presidio tattico attestabile a 4.160, Rossana. Perfetto Giacomo, ti ringrazio per tutte quante le informazioni con te, rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a voi. Si chiude qui l'appuntamento di oggi, vi ringrazio per la visione e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Buona serata.